Siamo in una cascina. Dov'è questa cascina? Non è nelle Langhe, non è sulla collina di Rivoli, non è nel Chierese, siamo nel cuore di Torino, a 200 metri da Edith, a 2 km da Piazza Castello. Perché siamo qui? Perché questa cascina diventa il secondo intervento di co-housing promosso da Homers. Che cos'è un co-housing? Sostanzialmente è uno spazio dove le persone scelgono di condividere degli spazi comuni e gli spazi privati. Attorno si costruisce un progetto tutti assieme e la comunità deciderà quelle che sono le funzioni da mettere all'interno, dove posizionare gli spazi privati e quelli comuni. Il modello economico alla base di Homers è molto semplice. Condividendo si ha di più per sé, di più per le relazioni, si prende più tempo per il proprio spazio e quindi alla fine si vive meglio e risparmiando. Questa è l'idea di riqualificare uno spazio che altrimenti non avrebbe avuto altra destinazione e può invece diventare uno spazio di vita, di condivisione, di comunità. Alcune famiglie tra quelle che oggi l'hanno visitata decideranno di cominciare insieme questa avventura e la ridisegneranno come la loro casa di campagna in città.